Buonasera ragazzi e ragazze, buonasera ragazzi e ragazze, perchè ho fatto la doppia intro, va bene Buonasera ragazzi e ragazze, per farci vedere questo nuovissimo video, sono X0Aiden e vi do il benvenuto su un nuovo video Oggi siamo qua su PES 2019, perchè insomma è il primo video di PES 2019 e forse sarà o l'ultimo o incomincia la nuova serie Quindi sì rega, commentate se volete questa serie, perchè oggi parlo doppio E ci vediamo in partita Ok ragazzi, adesso vediamo un po' contro chi siamo Speriamo, speriamo in una squadra molto scarsa Perchè parlo così? Non lo so, perchè stavo cadendo forse Può darsi Speriamo, stavo dicendo, speriamo in una squadra molto scarsa Adesso poi vi faccio vedere Ecco, molto scarsa Vabbè, non è detto che forse Adesso vi faccio vedere Chi ho Ecco, un Ronaldinho Tattico Ehm, un Dembele Molto buono E poi altri Allora, entriamo in partita ragazzuoli Conto il Barsa Però non sembra tanto forte Però, ovviamente non la dobbiamo guffare E speriamo, speriamo un po' bene Ecco Ehm, lasciate like, iscrivetevi al canale Commentate se questa Ehm, per 2019 Sarà una nuova serie con Pesibits Allora Lucas muovrà Con il caccio d'inizio A fare il nostro Bene, grazie Molto gentile E' molto gentile sto qua, eh Nient'è, mi sento bene Subito al caccio d'inizio Cioè Non so se l'ho fatta apposta Oppure meno Ehm, vabbè Siamo tutti e due Mongoli, tranquillo Ok, c'era pure io Ma l'ho cambiato perché Ha 50 di over Dembele Subito con la prima palla La passa a Ronaldinho Che non Non la prende Perché è murato Attenzione Partono In contropiede Attenzione Subito Contropiede Subito gol Gol Eeeh Dai 1-0 Per Barcellona Guarda che bello Ma che difesa Bella E la faccio così Perché Non voglio Incazzarmi Non ne incazziamoci Sono Dico cose brutte Cose brutte Questo gioco davvero Fa incazzare Tantissimo Chi è questo? Chi l'ha fatto? Va Rain E' lui Va Rain Che lo fa Era Va Rain Per forza Va Rain Fa l'1 A 0 Eh Non gli ho fatto Niente Non ci credo Quanto è laggato? Oh Ma che cavolo? Raga Nei passaggi Mi stava laggando Tantissimo Non so se il video Eh Allora L'ha visto Oppure no Boh non lo so Però ha laggato Un botto Raga E questa cosa Mi fa incavalare La Vernia Ancora lui La Vernia La Vernia La può crossare Ma non la crossa Perché è imbecille Ma la riprende Ah beh Siamo una pari Ma non sei una cortora Però Genius Oh La prendila La L'ho la prima Non Era un addigno Perché era un addigno Non ce l'ho fatta Però L'altro prima Dai Stava Andando Ben Bele La Come cavolo Si chiama Ok Prende la palla Ben Bele La passa Subito A Ronaldinho Ma quanto lagga Regga ma lagga Assai tanto Ben 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 Attenzione Lui È un Ottimo È velocissimo Ben 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 Si va Subito Va subito In mezzo Ben Ben Niente da fare Arriva prima Il portiere Fine primo tempo Uno pari Barcellona Napoli 57% In Napoli 43% In Barsa Dai Speriamo Al secondo tempo Qualcosa Di Buono Di Buono Allora Iniziamo subito Il Second Tempo Subito In attacco Stiamo Subito Subito Così Mi state Dicendo Uh Che parata Voglio Vedere Il replay Eh Bella Parata Dai 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 Che Stiamo Facendo Cioè Non la Parà Il Partire Ma La Parà Il Giocatore Ma 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 Sei In Grande Peccato Che A me No Non Succede Poi Ho tirato Fortissimo E' una Merda Va bene Ma 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 da fuori Il tiro Forte È forte Da dentro È scorso Non ti capisco Ma Raga Quanto cavolo Ragga Dai 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 Prendiamo Prendiamo la Prendiamo la palla Quanto ha laggato No Ora ha laggato Troppo Via No No Vabbè L'arca Troppo Buoglia 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 RONALDINIO Eccolo Eccolo qua Il capitano RONALDINIO Il king De king Dei goal Perché Non faccio i video Ma Li fa sempre lui Oh Bam Bam Come cazzo Ben Ben Non mi ricordo Meno Ma ma Quello la Di colore Ben Bele Ecco Credo che Ha sbagliato Però fa niente Quello che corre Tanto Lavergna Lavergna Poi gli altri Fanno Si fanno i goal Tra pochi Lavergna Quasi Per la doppia La doppietta Quasi Madoker Brividi Un pali Un palo Cavolo Mi ha fatto distrarre La cosa All'avviso No Lucas Moura No Boia No No Sono ripartendo Ripartendo Dai Ma dove Cavolo L'ha Fatta No Voglio Vederlo Ma come Dai come Mi sa che Sarà un pareggio Vai Subito Subito Tutto solo Tutto solo Mannaggia Perché non Tiri prima E tira fuori No Quindi esce così Due pari Barcellona Napoli Combat Tissima Uno pari Al primo tempo E l'uno E il due pari Al secondo tempo Partita Molto Sofferente 11 secondi 11 minuti Per una partita Va bene Noi ci vediamo Alla prossima Video Commentate qua sotto Nei commenti Se vi piace Questa serie Di PES 2019 E forse Farò Spacchettamenti Ma Non tanti Perché È faticosissimo A prendere Le monete Per tutte Per Prendere E tutto Non è facile Ecco Non è facile Perché Costano Assai Molto E non so Se ogni giorno Ci da qualcosa Oppure no Però Non lo so Perché Guardate 250 Questo pack Perché è un pack Gli speciali Costano 100 euro 600 euro 100 Monete 100 coins Ma perché Va bene E Ovviamente Non prendiamo Quella del Narsen Non Questa Giapponesi Cinesi Ma quella del Bachelon Perché È la più Buona Perché Se la prendiamo Tanto tempo È per un Un po' Traveremo Messi Poi Florez Poi Cotinho Dopo Piquet Dopo Ter Stegen E poi Poi posso E invece Qua Come potete Vedere Al sana Club È il più forte 85 di over Per quindi È E invece Qua Guardate I giapponesi È 86 Più forte Per quindi È abbastanza Scarsi E qua Vabbè Qua Sono scarsi Più forte È 86 Però Però È meglio il Bachelona Ovviamente E niente Rega Per questo video è tutto Sporciate Commentate Iscrivetevi al canale Perché non l'ho fatto E niente Ci vediamo Alla prossima Bella